Il regolamento della partecipazione e il bilancio partecipativo tornano al centro della discussione. I richiedenti si precisa nel documento, già da ottobre hanno tentato di attivare interlocuzioni con l'amministrazione e richieste incontri anche alle commissioni prima e quinta. Nei giorni scorsi si è svolto invece un incontro con la settima commissione per le associazioni firmatari di un documento relativo alle criticità e potenzialità del bilancio partecipativo. In particolare alla commissione settima in quanto commissione di garanzia e trasparenza sono state rivolte due richieste, si legge in una nota congiunta. La prima è quella di verificare l'esatta assegnazione delle somme negli anni passati con rendiconti dei progetti portati a termine. La seconda di intervenire attraverso il Consiglio Comunale alla discussione e alla rimozione delle criticità complessive del regolamento e specifiche del bilancio partecipativo. All'audizione del 21 maggio erano presenti anche ex rappresentanti delle consulte comunali, oltre ai componenti di alcune associazioni, tra cui il Movi, Proloco, Alchimia, Onde Donne e Movimento, Associazione del Torrone di Caltanissetta, più Città. Non sarebbe stata rispettata l'idea di coinvolgimento, dunque, secondo le associazioni, nel processo partecipativo. Ci siamo soffermati soprattutto sul bilancio partecipativo perché intorno a quello abbiamo fatto delle richieste specifiche. Infatti il bilancio partecipativo, che è una legge regionale che prevede la destinazione del 2% del bilancio comunale per iniziative e attività di democrazia dal basso, è stato applicato per la prima volta a Caltanissetta nel 2015, primi in Sicilia, ma anziché diventare un modello, ai noi le cose poi sono andate diversamente. Abbiamo proprio chiesto che dal 2016 in poi si facessero carico i consiglieri comunali di individuare i progetti e le rendicondazioni relative per comprendere come questi finanziamenti siano stati spesi, ma soprattutto abbiamo chiesto aiuto affinché tutti quanti insieme, magari sollecitando anche le altre commissioni, fosse possibile cominciare a parlare nel merito dell'intero regolamento. Perché tutte le associazioni sostanzialmente hanno rilevato come il regolamento sia frutto prima di un'iniziativa autonoma dell'Aggiunta che l'ha deliberato. Poi è passato dalla prima commissione, ma la prima commissione non ha sentito anche la curiosità, non l'obbligo certamente, però almeno la curiosità di interloquire con chi per esempio ha fatto l'esperienza delle consulte, dei regolamenti, dello stesso bilancio partecipativo, dei comitati di quartiere, per capire se c'era qualcosa che magari non aveva funzionato e si poteva correggere durante la rotta. E invece anche questo non c'è stato e a luglio è stato votato sostanzialmente così per come si presentava dopo l'approvazione in giunta. Dopodiché, dopo che è stato votato, non è stato mai presentato alla città. Il bilancio partecipativo, che si è chiuso proprio circa un mese fa, sono stati apportati a votazione dei progetti, ma l'amministrazione non si è mai fatta carico neanche di presentare questi alla città. Ci sono stati mesi di programmazione online, ma mai si è parlato né di partecipazione, né di regolamento partecipativo, né di consulte, né di nulla che avesse in senso generale o specifico a che fare con i processi di democrazia dal basso. E in sostanza il percorso partecipativo proposto sinora dall'amministrazione, secondo noi, non ha rispettato in nessuna fase l'idea del coinvolgimento. Noi confidiamo che invece ci siano delle possibilità di riuscire a costruire ciò che sino a questo momento non è stato fatto. E a proposito del bilancio, proprio del regolamento, non del regolamento della partecipazione, ma del bilancio partecipativo, alcune delle associazioni che sono state ascoltate in settima commissione saranno invitate presso un incontro che si terrà a Lars con l'assessore degli affari generali, che è il dottore Zambuto, organizzato dall'Anci Sicilia, perché in realtà poi i problemi di Caltanissetta non sono i problemi di Caltanissetta, sono i problemi di un intero meccanismo che non sta funzionando, però forse una volta tanto noi potremmo anche essere i primi o comunque non gli ultimi a portare avanti processi che sicuramente fanno bene a tutti, fanno bene alla comunità e fanno bene anche ad una buona politica.